Signori, we are back con una reaction incredibile fuori di testa, la più divertente che abbiate mai visto, forse, ai TikTok Più virali su Minecraft, più strani, più assurdi, quelli che ti fanno dire Oh mio Dio quanto son cringe! Esattamente quelli Quindi signori, dopo questa intro spumeggiante andiamo a fare la reaction, già mi immagino l'è peggio co... Iniziamo E se volete lasciate pure un mi piace, così non fa mai male Allora, iniziamo col primo Ci sono sti tre tizi Ah, I am wild I am wildcat È un bravo... è uno che fa YouTube Vabbè, comunque, c'è un creeper molto amichevole, sembrerebbe Infatti ci stanno giocando tranquillamente Ma non fidatevi del creeper Vabbè, ok Qua c'è una skin scurissima Ok E quando vedi i diamanti e i lapis lazuli torna indietro, ok Cringe Uh, più di pie, attenzione, posso metterne il titolo più di pie a tira view Va beeeene Cioè, ha dormito nel nether PewDiePie mi crolli con il nether Uh, bellissima sta canzone Quella di Up, del film Up Se non avete visto Up, signori, è andata a velo a vedere Comunque c'è una signorina Che è lì pronta, pronta Che legge qualcosa Non so, sta preparando una valigia Ma dalla porta sbuca Steve He's back, signori È tornato Steve Dalla sua cara mogliettina Cree Uh, ok Uccidilo, ti prendi Ok Ok, cosa c'entra È una pubblicità È partita una pubblicità Cosa c'entra Apex Law? Ok Non era una pubblicità Ma molto laggante Va bene, continuiamo Sta canzone è bellissima Oh, shit No Che cos'è sta cosa? Che sono questi tre? Andiamo avanti Ok Ok, come i giocatori di Minecraft aprono le porte Come quelli di Counter Strike aprono le porte Come quelli di Fortnite Ok Dove vuoi arrivare, gioco? Vero Se avete giocato Ok No, cosa? No, cosa sta succedendo? No, non l'ho capito, non l'ho capito Cringe Oh mio Dio, questo è cringissimo, signori Ok Cioè, si chiama Larry Non l'ho capito Ma perché io due su tre non li capisco? Cioè, cosa sta succedendo? Vabbè, signori Andiamo avanti Questo video di un confusionario Che non avete idea O meglio, avete idea Perché quello sta guardando Oddio Oddio Quanto è fatto bene Ma che cacchio è partita la pubblicità? Ma schippa Ok Stivaletti Pantaloni Occhio a caso E cappelli Mike Vazowski Oddio 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 Torniamo Voglio tornare a vedere Mike Vazowski No, no, era lui Fermo Già Va bene, niente Dobbiamo riguardare Ok Boom È perfetto Cioè, guardate con qua faccia Che dice Eh sì Dai Che figata totale Ma andiamo avanti Questo è il cagnolino L'ho già visto in un altro Quindi Schifo E che cosa? Ah Sposta qua il bus Ah ok Che schifo No No Non mi è piaciuto Ok Squiddy Con un cappellino di oro È un cacchio di creeper Ma perché in ogni tiktok ci sono Perché in ogni tiktok ci sono i creeper E fanno sempre ridere Te fanno sempre quelli creeper Esplodono Però fanno sempre ridere Dai trovo Oh diamanti Oh yes Diamanti per te Buon uomo Lei è stato molto fortunato Altro diamante Perfetto Pulito pulito Cosa mai Qual era la cosa particolare? Scrivetemela nei commenti Non l'ho capita Ok Bellissimo Uh Sono le shaders queste mi sembra E mi sa di sì Guarda quel ghast Guarda quel ghast È stra cattivo No scappati prego Scappa 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 Ok Ok panico 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 Fai qualcosa Sono in ansia No 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 Oddio quanto è inquietante È tipo un villager Che botta al cuore No mi sono spaventatissimo Era un villager Ma io Non c'è Pausa Devo andare a schiarirmi le idee Ci vediamo dopo Sono tornato Però c'ho ancora un po' di ansietta Vabbè continuiamo Sperando di non trovarne altri Quando la tua ragazza di minecraft Ti lascia Ok con la faccina molto tri Allora non so se voi sentite Non so voi quanto sentite l'audio Però è tipo partita una canzone ignorantissima Stratrista E questo qui è Vedete non so neanche parlare Già che si chiama cold lasagna Vabbè lasciamo perdere Connor death pants Fort five death Cosa sta succedendo Ok cammina sull'acqua La fa diventare ghiaccio Non mi è piaciuto Bidi di body di boom No voglio rivederlo Voglio rivederlo Dall'inizio Ok sto tipo che fa schifo Ok È perfetto Bidi di body di boom Boom Oddio Era perfetto Cioè quelli che ci cadono perfetti Sono i miei preferiti Signori sono i miei preferiti Che delirio Che delirio Ok cosa sta succedendo Ah beh normale Tutto normale Non è tutto normale Oddio quanto scuro aveva quest'uomo 235 mila Nooo Fine mi sarei suicidato Basta Non giochi Basta Non deve più giocare a minecraft Va fine fine Ok canzone incredibile Ok TikTok incredibile Non c'entrava niente Scusate Sono inquieta Ok Cringe Cringe Il cringiometro Signori si sta alzando È talmente alto Ok perfetto Nooo 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 Ma no Signori di youtube Ma cosa mi fate vedere Ma poverino Poverino No no C'è un ragno No se mi esce un ragno Mi metto a piangere Cosa appena vi Che schi La mia vita non ha senso Ok Minecraft da computer Da portatile Pecorella Smarriti Ma cosa che è Chi sto guardando Potty break Non so cosa sia Che cos'è Oddio Che cos'è La No Signori Torniamo indietro A vedere Che cos'è Quanta inquietanza Ma perché Mi sono appena passata Alla fobia Del maialino Villager E ora mi E cos'è Questa cosa Sembra la volpe Nove code Di naruto In caso Vi metterò Un'immagine Adesso Ok Spavento No Si Ma che Ma che Vabbè Andiamo avanti Uh Aladino Carino sto film No E' morto Signori E' morto Aladino E' morto Aladino Niente Non è morto Aladino Però Vabbè Signorina Jasmine Ok Piccolo momento Didattico 5 secondi Fare quelle cose Lì E' difficilissimo Fidatevi E' difficilissimo Ma continuiamo Questi che si Lanciano i diamanti Oh è il tipo What Allora A parte che Mi sembravano i tipi Di Stranger Things Si Sono loro Bello Stranger Things Guarda che sberla Ah Che sberla Il ragazzo Senza denti E' stato Slavato Slavato Dilaniato Da Mike Un saluto a Mike Che so che segue sempre i miei video E' meglio Cacarino E' meglio Cacarino Guarda come scava Guarda come scava Intanto lì aumenta la sabbia No No Non No No Cioè Cioè E' più triste Veder morire Gli animali Nei film Ma anche nella vita leale Che le persone Fatemi sapere se siete d'accordo con me Cioè Vedere morire un cagnolino Spider-Man Bello sto film Quasi quasi me lo riguardo Stasera Aca No No Un saluto a PewDiePie No No Mi è morto L'uomo ragno Hanno ucciso l'uomo ragno Chi sia stato non si Ok Oh Oddio Che bello sto braccio meccanico Ma va Esiste davvero Fì che sberla Che sberla Ma esiste davvero sto coso Figata totale Voi la dovete smettere Di mettere sti cosi Che cos'è Cos'è il Yilmaz.ex Già Che cosa cacchio Vabbè dovete smetterla di fare sti jumps No Basta Via Cambia No Mi fai Mi stai cringia Oh Oh figo Bella sta mod No non ho capito Vabbè Cosa sto guardando Cioè Più vai avanti nel video E più sono strani Così La butto Vabbè Continua Allora sto tipo Con 15 sub Buono Non male Non male Vabbè Eeeh Vabbè E' andato Me ne vado Basta Me ne va Ciao No Ora lo voglio rivedere E non voglio spaventare Vabbè che ormai lo so No ora ce lo riguardiamo Ora ce lo riguardiamo E mi dite quanti di voi nei commenti Si sono spaventati Cioè Come fai a tirare A colpirla E sparartela di Lei è un pezzo di me Vabbè Ok Allora Aspetta 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 Commentiamo A parte quella Ranettina Straparticolare Ma Mi sa Cioè Senza il mi sa Minecraft In VR In VR In VR VR Chiamatelo come volete Non ce l'ho il VR Però sarebbe Bellissimo No Sarebbe bellissimo Tra l'altro Torna più di Pi Con delle cuffie Alquanto strane E ok Cosa succede Oh Sempre i creeper Uh Uh Dei ma perché Ci deve essere sempre Un creeper Dietro Mio dio Basta Creep Basta creeper Questo qua Non lo sto capendo Vabbè Mi ha fatto schifo Sto tizio Cringe Tantissimo Vai Quattro soci Nella tempia Oh Cosa È Quel Coso Andiamo Avanti Non facciamoci domande Che il video Sta anche per finire Guarda No 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 Signori F in the chat F in the chat Per sto ragazzone F pure per lui Doppia F in the chat Bella maiuscola Bella Mi perdoni Lei è un cretino Se lo faccia dire Lei è un deficiente Scappati Prego Scappato Scappato Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Non ce l'ha fatta Non ce l'ha fatta Sono finite No Con quale faccia Signori Sono finiti I tiktok Per oggi Credo proprio Che un video Possa bastare In caso Signori In caso Di casa Fatemi Totalmente a caso Fatemi sapere Nei commenti Se volete Altri video Reaction A questi tiktok O live A quello Che volete Fatemelo sapere Nei commenti I vostri desideri Verranno esauditi In teoria Vi ringrazio per la visione Vi vedo appuntamento domani Alla solitore Ovvero 2 e un quarto Con un nuovo video Sperando che non ci faccia Spaventare Cioè io mi son preso Non ce la faccio più Alla prossima